in questo video Ila, ci sei? ok Nicola, mi senti? Ehi, Ila, ok, dacci le direzioni per entrare a scuola Allarme scuola C'è entrato qualcuno? Chi posso chiamare? Pre... pronto? Preside? Mi dica, c'è nessuno? Dai, ci vuoi tu, dai No, no, io lo vrei dire tu Ok, pronta 3, 2, 1 Guardi, veramente, possiamo sentirci un'altra volta Avanti Buongiorno 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 E voi che cosa ci fate qui? Beh, che mese è questo? Che mese è? Che mese è? Ottobre Che mese è? Beh, ottobre Questo che è ottobre E quindi? Beh, potremmo tipo Per favore fare Per favore cosa? Fare una piccolina festa di Halloween La festa di Halloween in classe Bello Halloween Eeeh, c'è la festa di Halloween? No Assolutamente no E te, Maria? Maria, no San Giovanni San Giovanni San Giovanni E' tornato Ma non stai in galera te? San Giovanni Ma che cosa ci fa qui? E' evaso? Allora, presidente Non sono né evaso Né mi hanno fatto uscire Tanto per cominciare Non ci sono prove Che ero stato io A rubarmi la ruota Come le dicevo l'altra volta E anche la piange mi viene Adesso faranno altre indagini E vedremo Per il momento Io sono uscito Comunque di questa cosa Ne parleremo Ora tutti fuori Niente festa Niente Halloween Tutti fuori Di questo ne parleremo Le parleremo Le parleremo Fuori via 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 Non è giocata Ma che cioppi cioppi Ma basta Con quei cioppi cioppi Ma che cioppi Ma il capello La squadra dovrebbe stare da queste parti Sì, siamo quasi arrivati Sta qua dietro Sì Andiamo Ricazzo Tutto di me Ma che Ricazzo Ricazzo Funghetti Siamo all'entrata posteriore Della nostra scuola Siamo qua Perché il maestro San Giovanni Non ci ha voluto far fare La nostra festa di Halloween E quindi Noi entreremo di nascosto E allestiremo Tutta la nostra aula Di decorazioni di Halloween Ovviamente Ci siamo travestiti Per non farci riconoscere Oh regà Alla ci stanno delle camera Prendi le auricolari Eccole Vai Ilà ci sei Ok Nicola Mi senti? Ehi Ilà Ok Dacci le direzioni Per entrare a scuola Ok Sto vedendo Le telecamere Della scuola In giro Delle telecamere Della scuola Vedi qualcuno Degli intorni? Sì Funghetti Perché Ilari da casa Ha l'accesso Di tutte le telecamere Della scuola Quindi ci aiuterà Tutto il tempo Vai ragazzi veloci Potete entrare Ok Ilari Scavalchiamo Andiamo Chi stai? Chi stai? Chi stai? Chi stai? No 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 Ah regà Ma sto andando Ma che mi riconoscete Su Erbidello Ma che fai qua? Nando Ma che fai qua? Ma che vuoi fare Ve le lasciavo soli Secondo voi Io ieri in casa Ho sentito Qualche cosa Che stava D'organizzata Sotto sotto E quindi Mi sono vestito In due tauli E vieni qua Grazie Nando Quindi sei ossi Sei migliore Nando Sei migliore Dai Dai No 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 Ah regà Ok Che qui Soprattutto le telecamere Perciò Sprechiamo A Nassi Da qua Andiamo 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 Io non vedo nessuno Ma nemmeno io Dai regà Andiamo Non ci faccio più Manco io Ah io Mi sono fatta malissimo Anche io Ah regà Era troppo alto Ma Nando Nando Ah regà Io andiamo a faccio A scavarcare Datemi una mano A fare qualche Io in posto Entrato E no eh Arriva Nando Spacco tutto Lo apri il cancello Faccio io Dai 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 Ti aiuto pure io Ti aiuto Dai dai Forza Forza che si apre Forza Ila che dici? Regà Ma che sei Dei rimambiti Il pulsante sta davanti al cancello Ci sta il pulsante Ok Hai visto? Ma che ha visto? Ma che ha visto? Mi ha aperto il cancello Ma l'ho aperto io con il pulsante Andiamo L'ha detto io Andiamo 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 Ma come si fa Ma come si fa? Come si fa? Dico io Come si fa? Andiamo così Oh Sta entrata Calma 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 cal io ho paura tranquilli tranquilli allarme scuola sarà entrato qualcuno chi posso chiamare chi è chi è oddio maestro san giovanni si si pronto pronto maestro san giovanni ha capito chi sono pre pronto preside mi dica guardi ha suonato l'allarme a scuola deve andare di corsa non voglio chiamare la polizia perché magari non è una cosa così tanto grave quindi ci deve andare lei subito immediatamente san giovanni tra poco in questo video sta entrando san giovanni via 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 mamma calma calma il vento il vento ha chiuso la porta tranquillo andiamo a cercare la luce dai regà cerchiamo la classe per mettere i addobbi di Halloween aspetta la nostra classe sta al secondo piano Ilari dov'è l'interruttore della luce? Ilari dove? ok avanti 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 io non vedo nulla eccola lui lui eccola lui ah ah vai grazie Ilari perché è bloccata? Nando è chiusa le chiavi raga non vi preoccupate ecco questa qui è aperta venite qua non vi lasciate da sola Funghetti questa è la grazia più grande che abbiamo mai fatto mi raccomando non lo fate a casa perché è pericolosissimo ma se volete che continuiamo iscrivetevi al canale adesso ti sei iscritto? altrimenti non possiamo continuare vai vai sei iscritto continuiamo continuiamo dai ragazzi sbrighiamoci ad allestire la classe forza ma so sempre io tu o dormi o c'hai paura mamma mia sempre così scherzi ti sta vedendo gusto ma so così ma adesso ok questo qui è perfetto è buio è tutto buio qua ma qui la porta è aperta io qui non ci rimango io me ne vado io me ne vado ho il telefono pronto? si preside sono qui certo certo no tutto sotto controllo è veramente no ci penso io non si preoccupi stia tranquilla è tutto in mano mia è tutto in mano mia cosa ileri? la galleria allarme è entrato San Giovanni che c'è qualcosa? nico che è successo? cosa? San Giovanni sta entrando San Giovanni via 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 devo toglierlo devo toglierlo devo toglierlo allarme la prima cosa la prima sì la prima cosa tolgo allarme ecco torto che sarà che ha avuto io non lo so ha chiamato la preside devo da qua devo stare a vedere che è successo oh speriamo che non entra qui non c'è nessuno? papà tra poco in questo video San Giovanni ma chi è che parla? è il tuo spirito che ti parla? è il mio spirito venga preside via libera tutto a posto non c'è nessuno? andiamo venga con me perché mi ha vestito così? venga le ho detto venga ma perché devo andare in giro così? venga eh guardi è molto meglio così che quando è in classe venga sì sì dico dico che cos'è? ho paura qua non ci volevo venire ci volevo venire per la preside che mi chiama e vado io e faccio tutto io faccio ma ragazzi ragazzi che cosa? pieno dei moschi qui è pieno dei moschi ma chi l'ha fatto sto lavoro? ma chi è pieno dei moschi che mi piace di funghi ti ogni idea um um ah 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 che burro sto San Giovanni che è ah 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 te l'è con un'altra volta te l'è ah ma preside pronto preside? salve sì sì no no è tutto a posto no no è tutto sotto controllo ma ho fatto tutti i controlli necessari e abbiamo trovato una soluzione adesso è tutto a posto ci penso io non si preoccupi che ci penso io d'accordo arrivederci devo rientrare in classe e vedere chi ha messo quelle cose mostrose dentro la classe devo scoprirlo a tutti i costi me l'ha detto la preside devo scoprirlo ricordo ricordo mi senti? Hilary se n'è andato cosa? sta tornando no no non ci credo un'altra volta ok ho un piano per ingabbiare San Giovanni e cosa devo fare? accanto alla classe ci siamo ok c'è un microfono sì c'è una cassa anche il microfono guarda quanti tasti sì ok ho capito adesso ci senti? sto passando ok perfetto San Giovanni alla noi hai capito che dobbiamo fare? no che devo fare? dobbiamo andare a pescare il pesce? no dobbiamo avvolgere ah ho capito ho capito tipo il pesce ma San Giovanni è un po' troppo complicata eh San Giovanni ma chi è che parla? il tuo spirito il tuo spirito ma chi è che parla? San Giovanni ti vedo sei qui? sei qui? dove sei? non ti vedo? dove sei? Nicola devi dire a San Giovanni di togliermi tutte le note ok? con la voce da fantasma ti ricordi quando hai messo quella nota a Hilary? ti sei pentito? sì sì mi petto della nota che ho messo a Hilary non la metterò mai più ve lo giuro non la metterò mai più se ci sei però fatti sentire datti un colpo che cosa vuoi da me? vieni qua entra nella porta ti aspetto aiuto 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 chi è? chi è? Hilary ma che fai a questo? ma sono le trenti notti eh no 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 non guardare sto finendo un compito di classe no no vabbè finisci i compiti vai subito a letto ok? Nicola ci sei ancora? oh mamma che fame mi vado a mangiare qualcosa va vabbè tanto qui è tutto sotto controllo maglie che fa venga preside via libera tutto a posto non c'è nessuno? andiamo non mi spaventano certo queste cose no no aspetti aspetti ma che mi importa non mi mettono paura certo queste cose non riesco a liberarmi da questa cosa come non ce la faccio preside san giovanni oh c'è la preside no ah preside si si sono qua mi ero travestito da rete per vedere che cosa accadeva qua è stata la mia idea non si preoccupi ci penso io ma quale mimetizzato san giovanni si era bellissimente incastrato con quella rete come un tonno si alzi in piedi per favore certo certo preside comunque era un tonno a piena gialla pure la polizia la polizia la polizia ilary ilary perché non hai detto niente? ilary mi senti? ma che fame che c'avevo buono ma ancora non l'ha capito chi ha organizzato tutta questa cosa venga con me ma ci sono degli spiriti venga con me venga venga con me ma ma la faccia finita di fare tutte queste buffonate venga se ne sono andati andiamo via venga con me venga con me venga eh guardi è molto meglio così che quando è in classe venga si si dico dico venga mettiamoci qua mettiamoci qua qui la prego ci aiuti non ha visto i spiriti dentro c'è la polizia facciamoci aiutare no ci sono io non vi preoccupate non ci preoccupiamo guardi non si preoccupi ma quale spiriti non si preoccupi ci pensiamo noi lei può andare no non ce ne vada la prego ma la faccia finita non ce ne vada la faccia finita la faccia finita polizia io ho paura di spiriti presidi ancora non ha capito nulla faccia quello che sa fare meglio il mostro adesso mamma mia ce ne vada più visto però andava tutto bene però ce ne avevamo vista bruttissima vabbè andiamo ce ne vedo adesso che c'è che c'è che è che mi fa così ma pure tu che è che mi fa così ma io non vi ho detto niente adesso sono scappati i spiriti che ti hanno a funzionare i spiriti sono scappati ma ancora questi spiriti sì San Giovanni la prego basta Fabio ma Nando anche lei è qui buonasera per forza stavamo facendo una sera ma come buonasera è stato un incubo per me mi hanno svegliato di notte sono venuto qui ma mi sorprende che anche lei sia qui a me sa mi piace stare in mezza ai ragazzi certo voglio voglio dire una cosa ma questo San Giovanni è proprio un pollo ma quando si sveglia non lo dica a me mi ha svegliato questa notte non aveva capito nulla ovviamente comunque ci vediamo domani a scuola anche con lei ok grazie per fortuna io sono la preside e capisco sempre tutto funghetti secondo voi li devo sospendere o no iscrivetevi nel canale e scrivetemelo nei commenti ci vediamo domani a scuola a scuola